Buonasera, benvenuti alla nostra emissione. Test AIDS insignificante ma lucrativo. Il test dell'AIDS può essere spaventosamente impreciso, infatti con esso non viene provato il virus HIV, ma solo gli anticorpi che vi reagiscono. In un sistema immunitario sano, gli anticorpi sono costantemente attivi. È risaputo ormai che più di 60 diverse malattie ordinarie possono dare un risultato positivo durante il test dell'HIV. Tra queste malattie troviamo malattie poco gravi, come per esempio l'influenza o un'infezione acuta, ma anche vaccinazioni, alcolismo, tuberculosi, malaria, epatite B, herpes e così via. Persino una normalissima gravidanza può farlo risultare positivo. Le lobby farmaceutiche che producono questi test AIDS si rallegrano lo stesso, come anche gli istituti di ricerca Gallo e Montagnier, che partecipano ai guadagni risultanti dallo sviluppo dei test AIDS. Fino al 1994 erano già 35 milioni di dollari. Buona serata e alla prossima!